Ciao, sono Mauro e oggi vi presento la nuova tecnica. Che mi si fa? Avevo fatto un'attaccio alla cliente e stanno iniziando a imparareci. E' proprio lì che mi viene questa idea. Che mi si fa? Avevo fatto un'attaccio alla cliente. Che mi si fa? Avevo fatto un'attaccio alla cliente.